I sogni. Io non so cosa sono i sogni. Scrivere e leggere all'interno del carcere è importantissimo per non essere fagocitati da questa realtà. La libertà l'ho scoperto qua dentro. Per quanto c'è la salute puoi affrontare il carcere, ma se manca la salute penso che sia arrivato alla fine. Da quel vuoto disperato, dei deludenti colloqui con se stessi, niente può tirarti fuori da quella cella. Un'ora di libertà, non ci sono soldi che ti ripagano nella vita. Bisogna sentirsi libero dentro, anche se con il corpo siamo qua dentro. Perché ho capito, gioco in loco la vita, mentre vorrei annullare il vizio alle domande. Il carcere non serve a niente. Serve solo a incattivire le persone e a farle diventare peggio di quello che erano prima. Mi sento anch'io che posso volare qua. Il carcere non serve a niente. Grazie a tutti.